Buongiorno a tutti da parte di Enrico Lanati del sito investire.biz e benvenuti a una nuova puntata di Turbo Daily. Le borse continuano ad andare al rialzo e sembra che questo rialzo sia piuttosto importante, l'abbiamo visto in Europa, l'abbiamo visto in Italia e i livelli che stanno raggiungendo sono particolarmente interessanti. Ieri abbiamo detto che questo è dovuto alle politiche delle banche centrali ma se andiamo a vedere quello che sta succedendo forse ci rendiamo conto che per esempio l'indice italiano è arrivato su dei livelli particolarmente interessanti e dai quali secondo me se vogliamo valutare delle operazioni ribassiste è il caso diciamo di farlo adesso perché? Perché abbiamo tutta una serie di vantaggi che sono legati ai rapporti rischio rendimento tutta una serie di cose che però voglio farvi vedere sul grafico perché si vedono meglio. Ecco questo è il grafico del Fuzzimib come potete notare c'è stata una forte lateralità diciamo nel ultimo nell'ultimo periodo abbiamo avuto il crollo post coronavirus e poi il mercato si è ripreso ma non è poi tornato sui reali massimi o comunque in prossimità dei massimi come hanno fatto altre borse segno di una debolezza del nostro paese diciamo più forte rispetto ad altri. La cosa interessante però è che se scendiamo di timeframe andiamo sul grafico orario ci rendiamo conto di una cosa che i livelli che stiamo raggiungendo in questo in questo momento sono dei livelli interessanti e che spesso dopo una corsa così significativa guardate siamo partiti da 16.800 punti siamo arrivati a 17.800 punti ecco in questo caso c'è un movimento diciamo senza sosta di circa mille punti ha senso secondo me provare una operatività a ribasso contro trend quindi mi raccomando con uno stop piuttosto stretto per cercare di prendere quello che è diciamo il respiro del mercato ovvero una sorta di ritracciamento fisiologico che magari non sarà un ritracciamento violento o forte ma comunque un qualcosa che potrebbe tranquillamente avvenire. Per far questo utilizzeremo i certificati di BNP Paribas e adesso vi faccio vedere come andare a selezionarli tra l'altro vi segnalo che giovedì 4 giugno dalle 10 alle 11 faremo un webinar in tempo reale dove andremo a spiegare nel dettaglio perché ovviamente in questo non abbiamo tantissimo tempo al mattino con Turbo Daily andremo ad approfondire tutta una serie di tematiche quindi mi raccomando segnatevelo e scrivetevi dal sito investimenti punto BNP Paribas punto it cliccando su certificati a leva e andando su Turbo Certificate avrete la possibilità di poter scegliere il sottostante nel fondo specifico appunto il Fuzzimib vi segnalo che proprio su questo sottostante ci sono 82 prodotti quindi di fatto potrete scegliere la leva che ritenete più opportuna e posizionarvi sia long che short per quanto riguarda i prodotti ribassisti sono al momento 51 quelli in quotazione io non ho voluto prendere un prodotto con una leva esagerata quindi mi sono soffermato sull'NL 001491946 come codice ISIN che offre una leva di circa nove volte e una distanza diciamo dal livello di knockout di del 9,51 per cento il livello di knockout è posto a 19.500 punti questo vuol dire che a raggiungimento di tale livello il certificato annulla il suo valore che in questo momento è di circa 21 centesimi andiamo a vedere subito in piattaforma quella che è la quotazione in tempo reale di questo strumento andiamo a inserire il nostro trade di oggi andiamo a mettere 8.000 pezzi che sono circa un controvalore di 1600 1700 euro e andiamo a posizionarci praticamente a mercato dal momento che siamo veramente vicini al nostro entry point quindi mettiamo l'ordine a 20 e 45 quindi 0.2045 8.000 pezzi e clicchiamo su buy benissimo quindi adesso abbiamo un ordine pendente attendiamo che venga eseguito lo vediamo qui al momento appunto non siamo stati ancora eseguiti andiamo quindi a ricapitolare quello che è il trade proposto oggi stiamo parlando di un'operazione short sul Fuzzimib livello di ingresso 17.810 stop loss 17.950 target 17.550 anche con riferimento al target ovviamente andremo a fare delle valutazioni nei prossimi giorni quindi durante questa trasmissione da parte di Enrico Lanati per oggi è tutto io vi saluto vi ringrazio e come sempre vi do appuntamento domani